Non so se vanno a dire buccioli, ma stati c'è qua, c'è più preoccupati, c'è più aspetti e grati, e non so se ne vogliono pagare il lavoro, e non so se ne vanno a portare il rischio. Non la crisi non la paghiamo, 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 non la crisi non la paghiamo. Andiamo a vivere una casa, andiamo a poter fare una famiglia, e posto il destino del popolo italiano, su cui ci hanno portato una classe politica incompetente, una classe politica che è stata tutta l'Europa, ci hanno portato in questa condizione, una condizione in cui noi, con tutti quelli che sono in questa piazza, siamo in noi che non avremo un futuro, e siamo un accorso premoli, e questo non ci va bene, per cosa ci siamo qui, ma so se non parlano di portone, ma so se non parlano di insieme disoccupati. Noi la crisi non la paghiamo, noi la crisi non la paghiamo, non la crisi non la paghiamo, non la crisi non la paghiamo.